Tenuta Cantagallo Eventi, un nome che dice tutto. A Francavilla Fontana e in provincia di Brindisi, una struttura elegante ed accogliente per ogni evento. Dai matrimoni ai compleanni, i diciottesimi, il battesimo, le cresime, ma anche feste di laurea e defile di moda. Ogni festa organizzata alla Tenuta Cantagallo è sempre una sorpresa. Qualunque sia il vostro budget di spesa, alla Tenuta Cantagallo la vostra festa. Sarà sempre e comunque un grande evento. Tenuta Cantagallo Eventi, a Francavilla Fontana, sulla via per Carosino, al chilometro 4. Per info 0831 890919. I giovani e i riti della Settimana Santa a Taranto. Un appello per i giovani, un ricordo di suo figlio Francesco. L'attualità di questa Settimana Santa che ogni anno si ripete a Taranto, ma con una intensità, con una forza, con un sentimento religioso sempre nuovo, rivissuto. Un sentimento religioso, rivissuto e che dobbiamo far rivivere, facendo conoscere questo nostro impegno, che si aggiunge ovviamente a quello delle confraternite, perché i giovani sulle orme dei nonni e dei bisnonni devono vivere questi momenti guardando alle radici della nostra realtà. Ed è per questo che quest'anno noi abbiamo voluto inaugurare la mostra ai giovani e ai riti della Settimana Santa, con il contributo delle scuole anche, qui nella biblioteca Clavio, perché noi tarantini dobbiamo essere orgogliosi di avere un bene culturale inestimabile, i riti della Settimana Santa. Grazie a tutti.